Il tartufo bianco pregiato ai sensi della legge regionale 23 del 1999 può essere raccolto dai tartufai muniti di tesserino nel periodo 1 ottobre 31 dicembre. La capacità produttiva dei boschi della bassa friulana sulla base delle raccolte degli ultimi anni si aggira complessivamente attorno alla decina di chilogrammi. Considerata tutta la superficie potenzialmente produttiva, non si tratta di una quantità elevata e per questo è immaginabile un miglioramento produttivo con interventi di minimo impatto.